Michelle Unziker e Tommaso Trussardi sono tornati insieme? L'ultimo gesto del CEO non lascia assolutamente spazio all'immaginazione. Da qualche settimana circola in rete il rumor che vedrebbe Michelle Unziker e il marito Tommaso Trussardi essere tornati insieme dopo la crisi dello scorso anno. Ma è tutto vero? A quanto pare ci sarebbe un vero e proprio segnale di riconciliazione, quale? Leggi anche, Elisa Dospina incinta, l'ex fidanzato di Anna Pettinelli diventa papà. L'annuncio di Stefano Macchi, Michelle Unziker e Tommaso Trussardi sono tornati insieme negli ultimi mesi abbiamo visto diverse coppie scoppiare, fra le più famose certamente quella composta da Hilary Blasi e Francesco Totti e quella di Michelle Unziker e Tommaso Trussardi. Se per i primi due non sembra esserci nulla da fare, i secondi invece si stanno concedendo un ultimo tentativo. Nelle ultime ore, un gesto del CEO del noto brand di moda non ha fatto che alimentare a dismisura la speranza dei fan. Ma qual è stato? Il gesto del marito della conduttrice svizzera Tommaso Trussardi ha postato nelle sue storie di Instagram una foto di Michelle Unziker con imbraccio odino, il loro levriero italiano adottato quando vivevano ancora sotto lo stesso tetto. Secondo gli esperti, comunque, dietro questa condivisione non ci sarebbe solo l'apprezzamento per la bella foto, ma un vero e proprio segnale di riconciliazione della coppia. Altri, invece, sostengono che i due siano solamente rimasti molto uniti, ma solamente amici. Dov'è la verità? Lo scopriremo presto. La foto di seguito La foto di Michelle condivisa da Tommaso, Ponte, Instagram Seguici su Instagram cliccando qui.